Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Sì, guardate, sei proprio grande Ma come rompo nel cazzo le mosche Alexa, accendi pioggia Implacabilmente si presenta sul campo di gioco il nuvolone da impiegati. Ogni impiegato ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche 14 mesi, ma quando vedono che il loro uomo è inferio in vacanza, gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata. Alexa, accendi nevicata. Ecco qua! Chi ci sta accadendo? Ma non è che tu è morto. Sono cagato assoluto. Non ci vedo il cuffio. Alexa, spara fucile. Infine la scuola nel cuo. Questo è abuso, si. Colpisci più forte il tesoro. Ma chi sei strunzi? Un po' più sceme questo vaiolo. Cioè non salto se tu me lo fai due volte di fila. No, no, prima di tutto il Sant'Everro. Nella stanza del direttore. Sta qua. Hovita io! Grazie l'ho area. No, no, non che whatsoever di tutti... ci sono per capire capire una tudo.... Si pietro di un secondo Antonio... No, no... Grazie. Alexa. Accendi nevicata. Ma me ne frega un cazzo. Io sono morto. Non piove. Porta pioggia. Vedi se sta tuonando fuori la finestra? Vedi? No. Non ha tuonato? No. Era un tuono. No. È vero? Sì. Mi hanno bussato. Mi sono mai capito. No. No. Non stai entrando. Mannaggia. Senta che hai prenduto. Bravo. Batti nel tuo caffè. Ma st'amore ti fanno male. Ma è uno che fa. Quattro ne hai presi. E me che fa? Ma datte una regolata. Fanno male. Ma non è vero. No. Fanno male. Che testa di cazzo. Ma puttana inonna. Te mo ti chiamo un joystick in caffè. Sto io che merda. Alexa. Spara fucile. Ok. Splash! E' un amore. E' tutto i sceme. Ma... Ma stai non fanno. È tutto il sceme. Ma stai non fanno la dina. E io... 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 ...dite! io... Allo vieni Cirozzia, ho codice Udin? No, qual è il codice? Ah, non è la condivisione Ah, è il codice Udin? Ah, non è la condivisione A un seguro E Ad esempio No, non è la condivisione Certo, non? Scraggere Oh, non è la condivisione Oh, non è la condivisione es worked fuck you! fuck quants Royale? ehhhh fate i cazzo tu io cagare ora mangi fuck you fuck you fuck you no you like a fuck y'all care Grazie a tutti.